Buongiorno e benvenuti ad un altro appuntamento della nostra rubrica di educazione alimentare. Oggi scopriremo che cos'è la denominazione di origine protetta e vedremo qual è la principale differenza con l'indicazione geografica protetta. La denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo DOP, è un marchio di qualità attribuito dall'Unione Europea a quegli alimenti di cui caratteristiche peculiari dipendono principalmente o esclusivamente dal fatto di essere prodotti in una determinata area geografica. Nel caso della DOP è necessario che concorrano sia a fattori naturali come ad esempio il clima, il territorio, l'ambiente, sia a fattori umani come ad esempio tecniche di produzione che si tramandano nei secoli per fare sì che quel determinato alimento sia irripetibile in un'altra zona produttiva. Affinché un prodotto sia certificato DOP è necessario che tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nella stessa area geografica e seguono le regole di un rigido disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole è affinato da un organico di controllo O. Leggermente meno restrittiva della denominazione di origine protetta è l'indicazione geografica protetta o IGP, che è quel marchio di qualità attribuito dall'Unione Europea a quegli elementi in cui una sola caratteristica peculiare dipende dal fatto di essere prodotti in una determinata area geografica. Anche i prodotti IGP seguono le regole di un rigido disciplinare di produzione e il rispetto di tali regole è affidato ad un organismo di controllo autofono. Grazie. 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 Grazie.